Ragazzi, stiamo andando da Gualtiero Martelli. Le sue opere sono sposte in tutto il mondo. E noi proprio a Scorrano lo dovevamo andare a pizzicare. Mamma, non ti sento? Papà? Ma non c'è più campo. Come sarebbe la tua vita se non ci fosse più campo? Qui i telefonini non prendono proprio. Però a fine mi sto sentendo male, cioè c'ho l'ansia. Io adesso come lo carico il mio vlog? E andiamo, vai. Meno male che almeno Dio prende dappertutto. Gualtiero. Dovete essere creativi, sporcarvi le mani. Lasciatevi ispirare alla vostra parte peggiore. Allora vinco io. Ragazzi, questo telefono che prende? Dai, seguiamo la voce, dai, dai. Ragazzi, ma fate sul serio? La volete finire? Cercate di ricomunicare guardandomi in faccia. Mi sono, 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 mi sono. Dalla mia donna. Io non sono di nessuno. Quando io ho bisogno di te, non ci sei mai. Non mi piace da morire. Per essere che mi vuole ancora, perché non lo voglio, per me. Voglio stare con qualcuno che mi faccia sentire importante e unica. Il problema non sono loro. Il problema siamo noi quando sbattiamo di vivere le cose con questa passione. Chi l'ha detto che non c'è il campo? Non vale, no! Ragazzi, noi andiamo a Dothranto per un concerto. Volete venire? No. Lì prendono i cellulari. Cos'è? Cos'è? Cos'è?